Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo workout che andrà a coinvolgere gruppi muscolari principalmente di addome, gambe e glutei. Iniziamo col primo esercizio, Hungarian Squat, potete facilmente utilizzare una segna, appoggiate il piede sulla segna, a terra, discesa verticale, in questo modo evitate la spinta in avanti. Eseguirete 20 ripetizioni solo con la gamba destra, dopodiché andiamo a terra per eseguire 20 VA a una gamba sola alternando bene le gambe. 5, 1, 2, 3, 4, fino a 20. Ritorniamo alla postazione iniziale per eseguire altre 20 ripetizioni, questa volta con la gamba a sinistra. Finito, torniamo nuovamente a terra, per eseguire altre 20 ripetizioni di VA, questa volta con entrambe le gambe. ripeteremo il circuito per 4 volte. Buon allenamento! anche se